Ti seguirò, Ti seguirò, Signore, Nella Tua strada camminerò, Ti seguirò, Nella via dell'amore, E donerò al mondo la vita, Ti seguirò, Nella via del dolore, E da Tua croce ci salverai. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, L'amore di Dio Padre, La comunione dello Spirito Santo Siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, siamo davanti a Padre Pio, Ma con il nostro pensiero e il nostro cuore Vogliamo fare un cammino, volare, Volare fino al Monte della Verna. Oggi ricorre l'anniversario Della stigmatizzazione di San Francesco. San Francesco che, Verso la fine della sua vita, Desiderava tanto avere nel cuore, Nell'anima, Sentire l'amore grande che Gesù ha avuto per l'umanità. E sentire anche nel corpo il dolore grande Che ha dovuto affrontare per la salvezza dell'umanità. Non c'è amore più grande di questo, Dare la vita per i propri amici, ci ha detto Gesù. E il Padre San Francesco voleva sentire questo amore e questo dono della vita. E il Signore Gesù lo ha esaudito. E lì sulla Verna, nella Quaresima che lui celebrava in onore di San Michele Arcangelo, Ecco, ha ricevuto il sigillo, l'impronta nel suo corpo delle stimate del Signore. Ben diverse le stimate del Padre San Francesco da quelle di Padre Pio. Pensiamo, il Padre San Francesco ha sentito sempre, nel suo cuore, nella sua mente, E il dolore e la passione del Signore. Esteriormente nel suo corpo, solo due anni prima della sua morte. E in un modo diverso, nelle palmi delle mani, come la testa di un chiodo, sul dorso delle mani, come un chiodo ricurvo. Ma il dolore e l'amore erano lo stesso di quello di Padre Pio. Ecco, allora, noi ricordiamo questo avvenimento del Padre San Francesco. Ricordiamo anche il desiderio di Padre Pio di essere un figlio meno indegno possibile del Padre San Francesco. Ma lui veramente è stato il figlio più degno del Padre San Francesco. O meglio, se vogliamo, uno di quella moltitudine di figli che ha ricercato la santità seguendo San Francesco. E allora ci affidiamo all'intercessione di San Pio, all'intercessione del Padre San Francesco. Perché anche se non riceviamo nel nostro corpo i segni della passione del Signore, possiamo nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra anima, avere sempre presenti questi segni che sono segni di amore, segni di donazione. E vogliamo soprattutto chiedere l'aiuto del Padre San Francesco e di San Pio, perché la sofferenza di Gesù sulla croce, di Maria ai piedi della croce, del Padre San Francesco e di San Pio per la salvezza dell'umanità, non siano inutili per noi e per i nostri cari, per questa nostra umanità. Dal Vangelo secondo Luca. Il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro, la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate. Ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite, pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Da una lettera di Padre Pio a Nina Campanile. Aiutami tu pure. So che Gesù ti vuole tanto bene e lo meriti. Dunque parlagli per me, che mi faccia la grazia di essere un figlio meno indegno di San Francesco, che possa essere d'esempio ai miei confratelli, in modo che il fervore continui sempre e si accresca sempre più in me da far di me un perfetto cappuccino. Grazie. 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 Grazie a tutti. Ad osservare fedelmente il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. E fige della croce, del corpo della Chiesa. Gesù trasfigurato, amore crocifisso, il stigma a te ti segna, splendore a tua vita. Al Padre che ci ama, domanda che ci invi, il dono risplendente, l'amore suo divino. L'immagine di Cristo, segnato del suo sangue, e fige della croce, del corpo della Chiesa. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote Sampio di partecipare alla croce del tuo figlio, e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi, per la sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo Gesù, possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e viveregna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Come era il principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era il principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. San Bioda Pietrelcina. Prega per voi. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Benediciamo il Signore. E preghiamo grazie a Dio. 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 Grazie a tutti.